Piccolo fuori, grande dentro, il nuovo Mercedes Citan è un po' l'uovo di colombo per tutti gli artigiani o piccoli trasportatori che per un uso professionale cercano un furgone adatto agli intricati tessuti urbani delle grandi città. Essente da problemi legati agli ingombri eccessivi, capace di svicolare rapido nel traffico ed essente da blocchi del traffico o di vieto di circolazione nei centri storici. È un van elettrico con un'autonomia adeguata all'uso quotidiano ed una capacità di ricarica sufficientemente rapida. Insomma, un ottimo compagno di lavoro per chi svolge la propria professione su quattro ruote. Le Citan è una copia identica dell'equivalente van equipaggiato con motorizzazioni termiche diesel o benzina, ad eccezione del suo powertrain totalmente elettrico. Condivide lo stesso telaio, motore e batterie del rivale Renault Kangui Tech. E sebbene sia il furgone elettrico più piccolo della gamma Mercedes, non è un furgone piccolo, perché la capacità di carico è davvero notevole. La generazione precedente del Citan era di dimensioni ridotte rispetto ai suoi concorrenti. Ma questo nuovo modello è notevolmente più grande. Non è solo un diretto concorrente di Renault, ma anche di una serie di piccoli furgoni Stellantis, tra cui il Citroën e Berlingo, il Fiat e Doblò e il Peugeot e Pertner. Il cuore elettrico di E-Citan eroga 122 cavalli e viene alimentato da una batteria da 45 kilowatt. E' l'unico livello di potenza disponibile nella gamma, ed è solo leggermente meno potente del motore diesel di punta disponibile con 131 cavalli. Su strada risulta estremamente maneggevole, silenzioso e confortevole da guidare. Versatile e facile da caricare grazie al doppio portellone posteriore e alla comoda porta scorrevole laterale. Sebbene non sia il furgone più potente, il motore elettrico da 122 cavalli è più che sufficiente per l'E-Citan, sia in ambito cittadino che extraurbano. In manovra offre una buona visibilità complessiva e l'abitacolo è sufficientemente confortevole anche per lunghi tragitti. Su strada risulta stabile anche a pieno carico, mantenendo la maneggevolezza e la sensazione di sicurezza complessiva. L'abitacolo è spazioso, un ambiente confortevole e vivibile per conducente e passeggero. Ci si accorge di essere su un van solo per la paratia posteriore che fa da parete al profondo cassone. Insomma, benvenuti nel futuro dei furgoni, elettrici, vivibili e silenziosamente eco-compatibili con le nostre città.